La Rosetana è un avversario temibile? Sì, è un avversario ostico, un'ottima squadra, che ha in rosa dei giocatori importanti che io conosco bene perché sono giocatori che ho confrontato in Lega Pro tanti anni fa, sono giocatori che in questa categoria possono fare la differenza, c'è un giocatore come Picci che è il capocannoniere del girone è un giocatore che ha sempre fatto categorie importanti e quindi dobbiamo stare attenti perché ci può mettere in grossa difficoltà. Ritorna disponibile Nikita? Sì, ritorna Nikita dopo la squalifica, un giocatore che ci darà sicuramente una grossa mano anche perché è l'unico giocatore che abbiamo davanti con quelle caratteristiche è un giocatore che, l'avete visto tutti, sta facendo benissimo è un giocatore di grosso temperamento e spero che si faccia trovare pronto domenica a Rosetana. I ragazzi mostreranno la stessa forza delle due partite precedenti? Ma quello per forza, lo devono fare per forza perché il nostro campionato, il nostro obiettivo è quello di puntare in alto e quindi dobbiamo puntare partita per partita e di dare il massimo a ogni partita perché noi, come dico sempre io, quando si deve puntare il candidato di vertice ti devi dimenticare delle vittorie e ti devi sempre ricordare delle sconfitte e dei parecci. Grazie! 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 Grazie!